ciao a tutti e benvenuti in questo secondo video dedicato al calendario dell'avvento quindi andremo ad aprire ovviamente la seconda casellina vediamo se oggi riconosceremo subito il personaggio oppure come ieri no ecco qui no niente non si vede quindi adesso andrò ad aprire il sacchettino e vedremo dopo chi è il personaggio all'interno del calendario del 2 dicembre come potete vedere il personaggio è il cane fantasma zero il cane del protagonista del film ovvero jack skellitron musica 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 Grazie a tutti.